Oh... oh... fermo, fermo, fermo! Sì, calmo, non si agiti, ci do subito tutti gli euro che c'è nel portatore, eh! Ma che cosa dici, minchione? Questa non era la ria! Si è ringacciata Santa Rosalia! Un coppia mi sta venendo a me lo sa! Ma stupate! Come? Ma stupate! Non ho capito che devo fare! Ho detto che ti devi ma stupare e che ti metti a ammazzo, ma hai capito? Ma no, 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 stupi, stia fermo, come vuole lei? Ma stupo, ma... Ma stupo! Andiamo, Nenno! Ma stupate una tavola! Ma non ce la faccio, ma l'ho appena fatta! Non ce la faccio! Un uomo grande e grosso come la zia una volta lo faci! Ma stupate, altrimenti ti faccio saltare lo cervello! Stupate, stupate, stupate! Stupate, stupate! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Come facciamo, eh? Un attimo... Ammazzare lo tuoi ora! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh! Con un poco di concentrazione lo rifeci! Ammella! Si, sanno tutto! Vieni a casa! Si è questo signore che ci ha offerto gentimenti di darti un passaggio fino a Zapan! Grazie! Fizzica, che femmina! Mia moglie! La vedi che gente di cuore si trova sempre? Amo Nenno, pezzotta!